Ci sono tanti sindaci che vorrebbero l'acqua pubblica. Sono stati eletti nell'assemblea del neonato ente idrico campano che sostituisce i vecchi ambiti territoriali. Tra questi il sindaco di Nocera Inferiore, Maglio Torquato, con lui anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Angri, Bracigliano, Fisciano, Pagani, Rocca Piemonte, Sarno, Scafati e Siano. È sicuramente un passo importante, di cui va dato merito innanzitutto ai comitati, al Comitato per l'acqua pubblica, che ha fatto da rete, ha svolto il maggior lavoro, il maggior onere per mettere insieme le varie esperienze amministrative che avevano questa posizione, cioè quella della gestione pubblica dell'acqua. Ovviamente è un primo passo, sicuramente un passo importante perché l'assemblea poi decide i rappresentanti che gestiscono l'ente idrico campano. Noi continueremo su una strada che la mia amministrazione, sin dal suo insediamento, ma io personalmente anche da prima, come consigliere comunale, benché di maggioranza, ho sempre sostenuto quello del non affidamento ai privati del sistema di gestione di distribuzione delle risorse idriche, per una serie di ragioni che abbiamo avuto modo di spiegare nel tempo. Ovviamente assolveremo questa funzione con le convinzioni necessarie, sapendo dire quando ne siamo convinti anche dei no, come fu nel caso per esempio per le ordinanze antidistacco, che poi furono demolite dal Tribunale amministrativo, adottate invece non da me ma da altri colleghi sindaci, ma che ovviamente condividiamo nello spirito, quindi sulla linea dell'acqua pubblica e condividendo la linea le decisioni con il Comitato per l'acqua pubblica.